Si va lì a minigonna di fronte a una chiesa, si sfila il perizome e poi lo appende ad una ringhiera. Confesserò i miei peccati, si legge nella didascalia. Per questo video diventato virale, Aurora Panci, content creator, Rtina, prima è finita al centro di una bufera mediatica e poi destinataria di una denuncia da parte del parroco. Mi dispiace per le persone che si sono sentite offese, ma la mia era una provocazione artistica, non volevo offendere assolutamente nessuno e ripeto, per me non ho offeso né i religiosi, né i credenti, né i sacramenti. Aurora, conosciuta sul web come Audi Prof, 25enne, star di Holly Fan, è popolare sui social per le sue pose ammiccanti e doppi sensi, contenuti divisivi tra chi l'apprezza e chi invece l'attaccia di volgarità. Col mio corpo posso esprimere tante emozioni, mi piace tanto, poi mi alleno tanto, quindi mi piace anche mostrarmi un pochino. Tra i capi di imputazione dei quali dovrà adesso rispondere, offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone, atti osceni e pubblicazione e spettacoli osceni. Ho due legali che mi stanno dietro a questa faccenda, perché comunque voglio tutelare la mia persona e la mia immagine, come giusto che sia. Un video senza dubbio provocatorio, ma anche una mossa di marketing, che le ha portato oltre 300 nuovi iscritti al suo canale. Che per 18 comunque fanno abbastanza guadagno, ecco. Nonostante il clamore mediatico, l'influenza non intende fare passi indietro. Le mie sono ironie, sono video totalmente ironici, non offendono assolutamente nessuno e continuerò sicuramente a farli e rispecchiano la mia personalità.